Noi proseguiamo con la salute, prima si interviene sull'anoressia, più alte sono le probabilità di risolvere il problema. All'ospedale Sant'Anna di Torino hanno realizzato un'esperienza su un gruppo di giovanissime. Nel periodo più a rischio che è quello critico dell'adolescenza, una ragazza su cento soffre di anoressia. Senza nutrimento a sufficienza l'organismo incomincia a risparmiare su tutti i fronti, ad esempio scompaiono le mestruazioni. La ragazza anoressica non percepisce la perdita di peso come un problema, ma la scomparsa del ciclo mestruale sì, e se si rivolge ai medici è la sua salvezza. La menorrea non è un sintomo tardivo, è un sintomo precoce, proprio perché mette in evidenza la sofferenza dell'organismo di fronte alla carenza nutrizionale. E quindi attraverso la menorrea si può riconoscere il problema del disturbo. A Torino si è discusso per un'intera giornata del problema. Il centro a menorrea dell'ospedale Sant'Anna ha trattato in cinque anni un migliaio di giovani donne, di cui un terzo minorenni. Attraverso il sintomo della scomparsa delle mestruazioni si riescono ad intercettare in tempo tante ragazze anoressiche. Prima si interviene, i migliori sono i risultati contro l'anoressia. Questo dicono i dati dell'esperienza torinese. I neuropsichiatri che le hanno prese in considerazione hanno lavorato molto bene, hanno ottenuto dei risultati favorevoli nella maggior parte dei casi. Loro asseriscono nel 90% dei casi. Dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista dei ginecologi, questo ha fatto sì che il 70% di queste ragazze abbiano ottenuto non solo un recupero di peso, ma anche un recupero delle mestruazioni nell'arco di un anno, il che è un risultato veramente molto buono. I dati e il protocollo ora ci sono. L'esperienza del Sant'Anna però dovrebbe essere stesa anche fuori Turino, le altre province. Il problema, come sempre, sono i fondi.